Ciao, oggi vediamo le grandezze direttamente proporzionali. Abbiamo due grandezze, x e y. Per esempio, abbiamo il numero di pacchetti di biscotti. Un pacchetto. E qua il costo del pacchetto di biscotti. Due euro. Se compro due pacchetti di biscotti, spenderò quattro euro. Se compro tre pacchetti di biscotti, spenderò sei euro. Se compro quattro pacchetti di biscotti, spenderò otto euro. Due grandezze, x e y, si dicono direttamente proporzionali se quando una raddoppia, da uno passa a due, anche l'altra raddoppia, da due è passata a quattro. Quando una triplica, da uno passiamo a tre, anche l'altra triplica, da due è passata a sei, due per tre fa sei. oppure quando una di mezza, da quattro, passa a due, diventa la metà, anche l'altra da otto, passa a quattro, e quindi di mezza. Quindi, due grandezze sono direttamente proporzionali se quando una raddoppia, anche l'altra raddoppia, quando una triplica, anche l'altra triplica, quando una di mezza, anche l'altra di mezza, e così via. Se due grandezze, x e y, sono direttamente proporzionali, succede questo, che se facciamo il rapporto tra y e x, quindi y fratto x, che è y diviso x, otteniamo sempre un numero, lo stesso numero, quindi una costante, che chiamiamo k. proviamo. y diviso x, quindi 2 diviso 1, 2 diviso 1, fa 2, 4 diviso 2, 2, 6 diviso 3, 2. otteniamo sempre lo stesso numero. Questo numero è quindi costante, e si chiama costante k, che è il coefficiente di proporzionalità diretta. coefficiente di proporzionalità diretta. questa funzione y fratto x uguale k si può anche scrivere come y uguale kx, che significa k per x, e la incontreremo spesso scritta così. Vediamo. per esempio, y uguale 2x, è lo stesso esempio di prima, infatti al posto di k ho scritto 2, la costante che abbiamo calcolato prima. Quindi, data questa funzione, la mia k è 2. Ci può essere chiesto di rappresentare graficamente questa funzione. Allora, come facciamo? Per prima cosa, dobbiamo creare una piccola tabella, in questo modo, come quella di prima, x e y. Adesso dobbiamo dare dei valori casuali, cioè quelli che vogliamo, alla x, e calcolare la rispettiva y. Per esempio, diamo come valore alla x, 0. In questa funzione, se x è uguale a 0, quanto vale y? Proviamo. y uguale 2 per x. x vale 0, quindi 2 per 0. 2 per 0 fa 0, quindi y è uguale a 0. E lo scrivo qua. y è 0. E se x vale 1? Avrò y uguale 2 per 1, cioè 2. Quindi y sarà uguale a 2. E se x vale 2? avrò 2 per 2. Quindi y uguale 2 per 2. 4. E allora y sarà 4. Posso veramente scegliere il valore di x che voglio? Vogliamo mettere 5? Mettiamo 5. y uguale 2 per 5. 10. Adesso dobbiamo rappresentare questi punti che abbiamo trovato su un piano cartesiano, quindi il punto 0, 0, il punto 1, 2, il punto 2, 4, il punto 5, 10. Allora, dobbiamo trovare il punto x, 0, y, 0, 0, 0, quindi qui. Il punto 1, 2, quindi 1 sull'asse x, 2 sull'asse y. Il punto 2, 4, 2 sull'asse x, 4 sull'asse y. Il punto 5, 10, 5 sull'asse x, 10 sull'asse y. Adesso uniamo i punti. Che cosa abbiamo ottenuto? Abbiamo ottenuto una semiretta passante per l'origine degli assi. Le funzioni di proporzionalità diretta hanno come rappresentazione grafica questa, una semiretta passante per l'origine degli assi. al variare del coefficiente di proporzionalità diretta, quindi al variare di k, questo, quindi questo può essere 2, come in questo caso, potrebbe essere 4, 5, può variare. Al variare di k, cambia l'inclinazione di questa semiretta. Se voi provaste su questo piano cartesiano a rappresentare la funzione y uguale 4x, quindi dovete rifare la tabellina, calcolare le rispettive y, trovare i punti sul piano, troverete che la semiretta corrispondente sarà così, quindi cambierà di inclinazione. se invece la k è, per esempio, un mezzo, quindi y uguale un mezzo x, allora l'inclinazione della semiretta sarà qua. Riassumendo, due grandezze sono direttamente proporzionali se quando una raddoppia, anche l'altra raddoppia, quando una triplica, anche l'altra triplica, quando una quadruplica, anche l'altra quadruplica, quando una diventa la metà, anche l'altra diventa la metà. Pensate al pacchetto di biscotti e al suo costo. Due grandezze direttamente proporzionali hanno questa funzione, y uguale k per x. k è il coefficiente di proporzionalità diretta ed è una costante. Il grafico di due grandezze direttamente proporzionali è una semiretta passante per l'origine degli assi e la sua inclinazione dipende da k, cioè dal coefficiente di proporzionalità diretta. Per calcolare questa k faccio y fratto x. Per ogni y che prendo e la divido per la sua corrispondente x troverò sempre uno stesso numero, una costante, k. Nel nostro esempio era 2. Spero che il video ti sia stato utile. Se è così, lascia un like e iscriviti al canale. Se ti va, prova a rappresentare queste tre funzioni di proporzionalità diretta su un unico piano cartesiano. E poi guarda la soluzione che apparirà tra poco.